con il 2870 stiamo provando a fare una raffica vediamo quanto recupera e sto provando delle schede sony 300 in ru via ok ha fatto 25 foto ragazze a 130 mega metti ancora qua sony al massimo dobbiamo rimuovare quindi questa è la r4 notte su testa volo con le schede adesso stava scaricando che ha fatto altre 30